Svegli di male, c'è l'entra mio parale, dai, adesso... Scusa, scampare tutti i miei, pure i prossimi! Vai! Scusa, 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 scusa. Lì dove, quando, ma stasera non arrivo in ritardo, senza tante parole, andando alla posizione, potrete provato a non sentire! Ok, scampare! Ragazzi, questo video solo che per il prossimo cosa! Vai! Grazie a tutti